Jürgen Böss, che come tutti di voi sanno è direttore dal 2005 della fiera di Francoforte, dico cose ovvie, quindi la più grande fiera editoriale al mondo, viene da un importante background editoriale, cito soltanto Karl Hanser, Knaur, Springer, Science and Business, quindi con una grandissima esperienza editoriale e che ha portato anche a un grandissimo rinnovamento di questa fiera, la più antica, la più grande del mondo a Francoforte, lavorando proprio sui contenuti e sulle storie, quindi un cambiamento avvenuto dentro questa fiera che poi ha ispirato tutte le fiere a venire e sicuramente anche la fiera da poco nata e così splendida che è Testo, che ringrazio, che ci ha invitato e ci ospita. Accanto a me ho l'onore, ringrazio testo in particolare perché sono felicissimo di sedere accanto a Christoph Franz Mayer, scrittore che leggo, ammiro e amo da oltre 25 anni, che appunto anche lui ha poco bisogno della mia presentazione, un uomo appunto, un grande autore, lo diceva bene Andrea, uno dei maggiori scrittori viventi in lingua tedesca, uno dei maggiori scrittori viventi austriaci, grande viaggiatore, si definisce, ne parleremo probabilmente, seminomade e anche le conversazioni per portarlo qui a Firenze sono state molto belle perché ogni volta arrivavano mail dall'Alto Egitto, da una verdissima isola sul Nilo, quindi facendoci vivere a distanza un po' di questa vita raminga, ricordo i suoi romanzi pubblicati tutti in italiano per Feltrinelli, Gli orrori dei ghiacce delle tenebre, Il mondo estremo, straordinaria, incontro di un romanziere contemporaneo con Ovidio, Cox il corso del tempo, un testo che forse tornerà perché è simile al lavoro che abbiamo fatto noi, cioè l'Atlanta e il nuovo irrequieto e in ultimo, uscito pochi mesi fa, Il maestro della cascata. Per questi libri Franz Bair ha vinto numerosissimi premi, anche mi fa piacere citarli in Italia dove è molto riconosciuto e molto amato, ha vinto il Grinzane Cavour, ha vinto l'ITAS, quindi il premio per il libro di montagna, ha vinto il Mondello internazionale che tra l'altro ha vinto anche di recente una nostra altra autrice a Niernaud che ha poi di conseguenza anche vinto il Nobel. La sua fama è anche oltre i confini tedeschi, basta pensare al premio Miglior Livre Trangere vinto in Francia e cito questi premi e poi mi taccio e passo la parola perché sono quintessenziali anche al libro che andiamo oggi a presentare, appunto L'inchino del gigante, perché una parte dei testi di questo volume che adesso capiremo come è stato fatto e che cos'è, sono discorsi legati a premi vinti e questi parlano della maniera in cui René Cristo Franz Bair pensa al suo essere scrittore che è soprattutto un essere un narratore e quindi quando viene invitato a tenere un discorso per inaugurare il Festival di Salisburgo, una grande fiera editoriale o per ritirare un premio, fedeli a una tradizione millenaria invece di fare un discorso o facendo un discorso racconta sempre una storia perché come dice a un certo punto programmaticamente in questo libro se non hai una storia da raccontare non hai neanche qualcosa da dire, quindi se non hai un mondo da raccontare, un'opinione da incarnare in una persona, in un personaggio, in un paesaggio, la tua opinione si perderà, quindi c'è questa grandissima fede nella narrazione e nelle storie e su questa introduzione generale passo la parola a Jürgen Boss. Vielen Dank Marco, ich freue mich sehr, dass ich hier sitzen darf, ich liebe Testo sehr, das ist eine tolle Kulisse, ein tolles Programm und vor allen Dingen finde ich sehr spannend, dass ihr euch aufs Geschichtenerzählen konzentriert und das ist mein Anliegen, dass Buchmessen Marktplätze für Geschichten sind. Und als ich mir Gedanken gemacht habe über das Gespräch, habe ich natürlich in die Bücher von Christoph Ranzmeier geschaut und dein Buch ist eine Kompilation aus mehreren, die beim Fischer Verlag in Frankfurt erschienen sind und die erste Geschichte, die ich lese, in der beschwert Christoph Ranzmeier sich über die Frankfurter Buchmesse. Er geht über die Buchmesse und sagt, das ist ein Platz für Händler, das ist eigentlich kein Platz für Autoren und dann trifft er eine Person und ich glaube hinter den Büchern stehen die Autoren, die Übersetzer, aber auch die Verleger. Was ist die Rolle des Verlegers für Sie, Christoph? Buongiorno tutti. Ja, ein Buch zu schreiben oder sich zu ersinnen und ein Buch zu verkaufen sind zwei sehr dramatisch verschiedene Angelegenheiten und ich habe Messen, auch natürlich Buchläden, überall alle Plätze, an denen Bücher verkauft werden, immer geliebt, aber ich war ein immer auch ein sehr, sehr schlechter Geschäftsmann und ich habe mich darauf bezogen, immer beschränkt, das zu tun, was ich besser kann, als meine Arbeit zu vermitteln. Ich habe gedacht, meine Bücher sollten eigentlich für sich sprechen, das ist alles und es ist das Beste, was ich kann. Und diese Bücher auch zu repräsentieren, auf Messen zum Beispiel, ich wurde ja immer wieder gebeten, tritt auf bei einer Messe, geh in Talkshows, mach mehr Interviews und so weiter. Für mich war das Zeit, Zeit, vor allem Lebenszeit, immer das kostbarste Gut. Und ich habe mir gedacht, ich nütze die Zeit lieber, um Bücher zu schreiben, als um sie zu verkaufen. Aber ich bin dann auch gleich wieder auf eine Rede gestoßen zur Eröffnung der Buchmesse in Basel. Ja. Also die Attraktion oder die Wichtigkeit des Verkaufens war dann schon da. Nein, ich bin ein freundlicher und höflicher Mensch. Ich habe mich nie angeboten, auf irgendeiner Bühne des Buchmarktes aufzutreten. Aber wenn ich eine höfliche und freundschaftliche Einladung bekommen habe, hat es durchaus auch Vergnügen gemacht, auch dort, aber nicht ein Buch anzupreisen, sondern auch dort eine Geschichte zu erzählen. Und auch diese Geschichte zur Eröffnung der Buchmesse in Basel war eine sehr, sehr persönliche Geschichte. Also es geht ja immer um die Menschen und die Menschen in Bewegung bei Ihnen. Ja, und was mir jetzt beim Wiederlesen aufgefallen ist, dass es ohne die Begegnung und aber auch die ferne Begegnung keine Geschichten gibt. Aber diese Begegnung zum Beispiel auf der Frankfurter Buchmesse mit Monika Schöller, der Verlegerin von S. Fischer, das war ja in erster Linie eine Freundschaft. Das war keine berufliche Beziehung. Also für mich waren die Beziehungen zu Verlegern oder auch zu Buchhändlern und natürlich die Beziehungen zu Übersetzerinnen und Übersetzern immer im Wesentlichen freundschaftliche Beziehungen. Zu der großen Verlegerin Monika Schöller hatte ich eine Freundschaft 20 Jahre lang, bevor sie zu meiner Verlegerin wurde. Also das Verlegen kam dann sozusagen dazu, dass die Zusammenarbeit war dann auch ein Ergebnis einer jahrelangen oder fast jahrzehntelangen Freundschaft. Und so ist es mit allen anderen Menschen, die mir geholfen haben, ein Publikum, leser, auch Käufer, für meine Bücher zu finden, dass ich mit allen diesen Menschen, Verlegern, Übersetzern, Buchhändlern, in mehr oder weniger tiefer Freundschaft verbunden war und bin. Marco, wie findet der Verleger seinen Autor? Ich komme auf Italienisch. Ich komme auf Italienisch. Oh, ich komme auf die Seite, ich weiß nicht, Jungs, in der ersten 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 genie, où man lernt es noch eine Lettratura contemporanee und ich habe es geschafft, Morbus Chitaara, der erste romanzo, von Ransmaier, alsobere über den Namen, wie Lowen greut, wie im Aufzdorfen, plötzlich im Publikum, indem ich mich der Naomi-Klager hat, und dann, wie ich, kurz gesagt, a leggerlo, i suoi libri sono stati presto recepiti in Italia, pubblicati appunto da un grande editore ma c'è una produzione letteraria parallela a quella dei romanzi che sono queste che appunto come mostrava Jürgen sono ospitati da Fischer in questa serie bianca molto elegante fin dal 1997 e sono testi a latere della narrazione tradizionale appunto testi in cui si esplorano altri modi di narrare quindi l'interrogatorio, il racconto nato delle immagini, ci sono nel nostro libro delle bellissime foto di creature marine e da queste, dalla suggestione di queste foto, Ransmaier ha inventato una storia particolarissima di metamorfosi in creature degli abissi, vi sono appunto il genere del discorso quindi nel momento in cui volevamo diventare gli editori di Ransmaier abbiamo deciso di raccogliere cinque di questi libri con il tema centrale del viaggio così quintessenziale nella produzione e nella vita di Christian Franzmaier li abbiamo sottoposti all'autore che con molta intelligenza ci ha scartato uno delle nostre proposte e ha consigliato di mettere dentro proprio il racconto legato ai signori e signori sott'acqua si chiama, il racconto legato alle immagini che dicevamo dandoci subito questa grande suggestione, in fondo la metamorfosi non è la forma più estrema di viaggio e quindi dando una direzione molto chiara al libro che volevamo inventare e presentare ai lettori italiani che quindi si è diventato l'inchino del gigante cinque brevi libri di viaggi e metamorfosi e adesso come accade in quel miracolo che è quando si fa a volte editoria non si può più leggere uno dei momenti di viaggio senza pensare alla metamorfosi e viceversa. No, in realtà non ci siamo direttamente confrontati. Il nostro grafico Antonio Almeida che conosce molto bene i libri che pubblichiamo, quindi non è un grafico esterno, un grafico interno alla casa editrice, si è ispirato al fatto che si scopre leggendo il libro che il titolo previene da un bellissima narrazione di viaggio in Cina compiuta con Ensensberger in cui in una narrazione di traduzione viene raccontato come il titolo della più famosa raccolta, uno dei più bei poemi diciamo del dopoguerra tedesco ed europeo, la fine del Titanic di Ensensberger in una lingua asiatica, giapponese, cinese, nella finzione non viene ricordato esattamente quale fosse, fa talmente tanti giri di differenza culturale per cui diventa l'inchino del gigante e quindi il grafico con grande intelligenza ha recuperato il Titanic e il suo iceberg appena visibile e ci faceva l'onore Cristo Franz Meyer prima di dirci quanto ha apprezzato la copertina. come un' visto? come un momento e il farò in cui ha porteggiso bisogno? esiniz stubbornamente un film un film e anche non un libro erzählen über das ich über den ich generated un dem ich berichte sondern ich nehme ein bild an dem sich sozusagen die aufmerksamkeit eines zuhörer seiner zuhörer in oder lesers oder leser in konzentriert soll und dieses bild sozusagen gibt mir einen eine möglichkeit eine art anker in data in die aufmerksamkeit die allgemeine aufmerksamkeit in dieser aufmerksamkeit in questo mezzo, un anker a suverso e poi con la mia storia, un un anker a qui un più grande interesse. Ma io, Firenze è una staz di bilder e nessuno di questi bilder, se non è in in Uffizien o al Museo San Marco le fantastiche fresche di Francesco queste immagini sono stati ma quando stiamo in movimento il corpo, il corpo, il corpo è in movimento anche se il Bilde è stato un po' di stile ma è un po' di una porta o un fenster una volta che c'è un po' di non so la Beweghigh ma anche quanto è stato dissi la Atlantica da ciò che sta dove è stato questo dove c'è prima di abbiamo parlato di ciò potete si dire cosa significa che sta una alpino in O tak in la che ogni un territorio è un territorio il territorio è la la vita quindi Roma Parisi New York i grandi centri della città di ma è stato l'inferno l'inferno è il territorio l'inferno e ho 11 anni in Irlanda gelebata e la è stata una veramente una verità che è stato che non è sempre più di 10 volte in questo mondo, non è stata una sua terra, perché tutti i un paio, in un paio, che la la vita al rand del paio o al strand e non è finito. E questo è stato un'ottimità di un'ottimità di un'ottimità. Ha mi faszinato molto. E io sono sempre molto piaciuto in Italia, come in Italia, con l'inforzionale. Perché l'inforzionale non trenza dal resto del mondo, ma si verbina. Ci sono i grandiose fanno però già gli egyptici Binsenbote, che stessi l'inforzionale, non l'inforzionale. Non l'inforzionale, ma l'inforzionale. Per un'inforzionale, come per me, è stato sempre il grado di una grande Sensucht. In mei all'ersteri, all'ersteri reizi, ancora più, avevo anche più. Io stavo aus dem Schwarzwald, avevo una storia, e mia madre ha mi prima di Santa Margherita in Ligurien. Ho questa tradizione, dopo aver fatto, è stato anche un'inforzionale, ma l'inforzionale è un'inforzionale è un Symbolo di Wiedergeburti? La Titanica è l'Ende. Ma che è l'Ende, come l'Ende, può in l'Ende in l'Ende. La cosa è l'Ende, dove vogliamo ciò in l'Ende, ciò in l'Ende, per la nostra Zivilisation, non vogliamo. Nelca, potremo anche il nostro océano, la nostra società è da l'Ende, in effetti di verdampire, quando la storia della nostra Planeta è un endo. come è stato astronomico ma questo è tutto ciò che c'è come un passaggio che c'è il passaggio che c'è il passaggio che c'è il passaggio un pollo che o che un pollo un pollo questo passaggio che c'è il passaggio però abbiamo ovviamente ciò che puoi anche se siamo ragazzi che tomba è stato sicuramente una sfida e anche però un grande piacere è sicuramente molto difficile perché è uno scrittore che padroneggia perfettamente la tradizione letteraria anche della sua lingua e contemporaneamente racconta, ci sono dei passaggi bellissimi, racconta con la nascita del racconto racconta come le prime persone che abbiamo mai raccontato mantiene intatta questo incanto del racconto c'è un passaggio splendido nell'ultimo libro che abbiamo antologizzato in cui il narratore Hans Meyer sta per salire su un podio per fare un discorso che poi noi leggeremo e però questo gesto viene paragonato al momento in cui quest'uomo delle origini dell'umanità che si era rotto una gamba ha dovuto reinventare la funzione sociale non più come cacciatore ma come narratore intorno al fuoco inventando questo momento in cui una donna che lo ascolta gli dice la tua è una medicina, il tuo è un farmaco contro la mortalità perché? Perché le persone che non sono qui, le persone che non ci sono più ci sono ancora nel tuo racconto c'è un passaggio vertiginoso in cui siamo di nuovo con lo scrittore nel presente che si alza dalla sua sedia e ha le pelli addosso, ha la gamba rotta, è completamente trasformato in questo arcaico narratore e senza un accenno d'inchino, quindi rivendicando la legalità del narratore comincia a parlare ecco rendere tutto questo che ho cercato di raccontarvi a voce in italiano è una sfida molto affascinante in un libro in cui si attraversa l'autore in periodi diversi della sua vita e della sua scrittura e i testi stessi sono molto compositi nella quantità di paesaggi che ti offrono quindi anche per il lettore è come è stato giustamente detto in una bella recensione che è appena uscita di Melania Mazzucco con credo scopio proprio di viaggi e di esperienze e quello che fa il traduttore in questo caso è darsi un criterio quindi uno dei criteri, visto che le direzioni possono essere tanti, uno dei criteri che io ho scelto è cercare di rispettare l'ampiezza della frase di Christophe Franz Mayer che ha spesso queste volute che gestisce benissimo di lunghe architetture dentro una frase che contemporaneamente è commovente e ironica, nel racconto di cui parlavo che veniva dalle immagini ci sono questi abissi sublimi e questi personaggi nevrotici che li abitano e questa cosa coincide ecco io ho cercato di lavorare in questa direzione, quindi la cosa che mi son detto le frasi resteranno di quella lunghezza, adesso può sembrare un metro molto semplice però rispetto ad altri autori o ad altri momenti in cui cerchi altri criteri questo è sicuramente stato un criterio che ho cercato di utilizzare al netto di sintassi molto diverse come sono quelle italiane e quelle tedesche Marco, tu dici che è difficile e tu hai chiesto il risultato ma ci sono delle foto che non funzionano in italiano? Hai potete anche altre foto? Come per la lyrica, è questo molto facile, che si deve andare a altre foto? Probabilmente sì, ci sono a volte dei giochi di parole che si basano ovviamente su immagini proprie di una lingua e non di un'altra, però il punto è tenere lo stesso gioco che l'autore sta facendo l'immagine del viaggio, appunto visto che un libro ti fa riflettere molto sul viaggio io ho pensato più volte come di essere su un treno, tutto il percorso è deciso da Rizio Franz Mayer perché sto andando dove lui ha scritto, però lui sta guardando il paesaggio a destra io guardo il paesaggio a sinistra, nel senso quindi è un paesaggio che ci sono anche tratti in cui il paesaggio può essere diversissimo, appunto sulle coste perché? Perché quel paesaggio lì è quello che devo raccontare di questo viaggio ma con quello strumento paesaggistico che è la mia lingua italiana e non la lingua tedesca grazie a realtà come queste in cui appunto ci sono incontri, si chiede il paesaggio, si crea un evento intorno a un libro grazie a tutto il lavoro della stampa, a quello che citavo prima, i premi che soprattutto con gli autori stranieri sono proprio luoghi in cui la critica incontra il pubblico e dà una direzione e grazie anche al lavoro del grafico ovviamente che è la prima modo in cui un libro si presenta in libreria, grazie ai librai che soprattutto sposano o decidono moltissimo la fortuna di un libro e grazie anche al lavoro dell'editore ma non solo quello del momento, al lavoro fatto negli anni, quindi a essere un editore che ha cercato di presentare un certo tipo di letteratura in una certa maniera e quindi ormai ha un pubblico che lo guarda, poi è più facile far trovare il suo pubblico Christophe Franz Mayer che è un autore appunto già noto in Italia, amato, noto internazionalmente rispetto ad autori appunto che a volte ci provate di pubblicare che sono invece tutti da creare nello spazio culturale italiano. Stai. Maia è. Ha! Maia è una vocale un' legendary buchano che una buca dimensione o una piccatelli della biblioteca. Ha! ho! E' uno roso, è vivemento il e recordato un solo formolito. È un rapporto poco in Marocco e la penna. Ciamare il Fna, la Palazzo di devo走了. Del Quachzo di lavor о campione. per a si Celticilie o Lebensmitte per piacere, un buono si rida a questo posto e ci sono uno dei miei gridi, chiamo o insieme o suono le mie miei da sono 20, 30 succedili e chi si a un caffè si ci sono questi questi", questi questi ci sono uno ha fatto un po' di creare un altro che ho 5, 6, 7, 8, 9 con centrische Kreise e le persone, le Zuhörer wechseln, je nachdem come stark il Magnetismo una Geschichte è quindi i familiari Kreise più, 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 più schlumpfano e così è ovviamente anche con il Buchmarkt che il Magnetismo la Anzionamento di una storia una storia di persone a si zieglie e io non ho mai un'essere, un'essere un'essere, un'essere un'essere, un'essere di essere così! è stato solo solo ma ho sempre sono sempre e beveinti quando i miei libri in molti molti ma sono in molti in molti sono una di una meno familien relativ kleine familien umsichert aber es ist für mich für mein leben als erzähler ist da ist der zauber der übersetzung groß genug also ich muss nicht sagen wir mal im san zero stadion auf dem anstoßpunkt mit einem lesepult sitzen und lesen sondern es ist wunderbar hier bei ihnen in diesem rahmen es reicht ich finde für mich reicht es und wenn so lange der arme verleger marco nicht pleite geht er kann natürlich das risiko ist groß ja immer für alle verleger aber solange er nicht pleite geht ist mir diese familiäre beziehung beglückend genug christoph ranzmeier hat jetzt gerade ein neues bild für mich aufgemacht ich habe immer gedacht der auto schreibt in erster linie für sich selbst aber da gibt es auch autoren die schreiben für ein publikum großes möglichst gesehen werden zu verkaufen aber sie schreiben für die familie und das finde ich sehr toll und ich glaube das ist auch ein bild des verlegers besonders in italien habe ich sehr stark erlebt erstmal ist es eine verleger familie in italien man tauscht sich sehr viel aus man trifft sich man kennt sich aber ich habe auch immer das gefühl ihr sucht sehr genau eure familien aus ihr mit der französischen sprache mit dem deutschen wie bist du da gelandet wie hast du deine familie gefunden als verleger war das studium in tübingen ist es stato in realtà è successo appunto dopo dopo lo studio dopo tutto un percorso universitario ho trovato soprattutto il mio quello che i tedeschi chiamano lebe mensch quindi eh la persona della mia vita che lorenzo flabbi che è l'altro editore eh dell'orme editore e da lì in maniera ehm non forse troppo diversa è la prima volta che che faccio questa analogia al al allo stile di vita che racconta e che rappresenta cristo franz maier col suo seminomadismo con la sua idea così affascinante che ci appena raccontato del di cosa significa pubblicare un libro ehm abbiamo scelto parla al plurale perché una scelta condivisa appunto con lorenzo flabbi esistenzialmente di fare questo mestiere qualcosa che forse suottone l'editoria indipendente è molto ehm diffusa quindi è un modo di stare al mondo di decidere appunto non far decidere al sangue chi è la tua famiglia ma farlo decidere dalle tue scelte dai luoghi dove vai a vivere non far decidere dal fatto di essere nato in un posto che sarà lì per tutta la vita quindi prendere in mano la propria esistenza in questa maniera e decidere chi sono i propri chi sono i tuoi in modo poi da essere in qualche modo poi riconoscibili anche per gli altri e qualcun altro alzerà la testa e dirà vedi anche io voglio far parte di quella famiglia perché il bello di questo modo di pensare alle famiglie che non passa per il sangue non passa per le etnie non passa per qualcosa di deciso prima ma è un'appartenenza aperta come come nelle amicizie come nei gruppi poi ci si perde si litiga figuriamoci però c'è questa apertura che dipende da a volte dai momenti a volte dal dai tempi e però è un modo appunto di professare la propria il proprio mestiere come stile di vita appunto grazie. Christoph Franzmeier, per Besprechung e Kritik findet man immer wieder entweder il Begriff des Nomaden, Halbnomaden, ma anche il Tourist. Per il Tourist è per me il il fatto che qualcuno fa e viene e viene e viene e prende la storia. Il Nomade è per me un Getriebener. Il può non altro. Wegen Nahrung, o qualcosa, è un'attività di tutto. Sì un Getriebener, Christoph? Naja, immer auf der Suche nach Lebensmitteln im weiteren Sinn. Also das können natürlich nicht nur die tatsächlich verzehrbaren Mittel sein, sondern auch Mittel der Kunst oder natürlich die jeweiligen Geschichten, die Neugier, die einen treibt. Mit jedem erreichten Ziel zeigt sich ja, dass am Horizont oder in mittlerer Ferne wieder Berge, wieder Gebäude, wieder Küsten sich finden, von denen man noch nie etwas gesehen oder gehört hat. Das heißt, es geht, ein Ziel lässt sich grundsätzlich nicht erreichen, ohne einen ganzen Strauß anderer Ziele am Endpunkt einer Reise zu sehen. Also sich dann zu motivieren, den nächsten und nächsten und weiteren Schritt zu tun. Also die Neugier, die Neugier auf die Welt. Und es ist ja so, dass uns Reisen, die Bewegung, das muss keine transatlantische oder transkontinentale Reise sein. Es gibt ja innere und äußere Bewegungen. Aber alle diese Bewegungen verwandeln uns. Also wir kommen ja nie zurück von irgendeiner Reise, bei der wir tatsächlich die Augen und Ohren offen gehalten haben, kommen wir nie zurück, ohne nicht etwas in uns verwandelt zu finden. Es kann auch eine äußere Verwandlung sein, ohne Haare plötzlich oder von Wunden übersät. Aber im Wesentlichen sind es doch seelische Verwandlungen des Herzens auch, die uns wieder eine neue Perspektive auf die Welt eröffnen. Und insofern ist natürlich das Reisen, die Bewegung, das ideale Medium einer Verwandlung im Sinne einer Vervollkommnung. Wir werden einfach ein bisschen jedenfalls mehr. Sie haben es was beantwortet, was Sie als nächstes fragen wollten, weil eigentlich hat es sich immer sehr weit weggezogen. Mich hat beim Wiederlesen so eine Geschichte sehr berührt, wo Sie, glaube ich, im tibetanischen Hochland unterwegs sind und Ihr vorheriger Gastgeber läuft hinterher und will die Flasche wiederhaben, die kleine Flasche. Das ist sehr emotional. Aber das ist alles sehr weit weg. Aber Sie sagen, das spielt keine Rolle. Oder ist es, je weiter man weg ist, desto besser kann man zurückgucken? Ja, das stimmt in gewisser Weise schon. Ich habe ja auch Ethnologie studiert und habe mich immer konfrontiert mit den ganz großen und scheinbar unlösbaren Rätseln von Kulturen, von Religionen, von Gesellschaften. Aber in unserer Welt, in der ja von sehr, sehr weit weg Menschen zu uns kommen, weil sie mit Recht annehmen, wir leben im Paradies, während sie vom Tode, von Hunger, vom Krieg und so weiter bedroht sind. Diese Menschen bringen ja eine Welt mit, von der wir keine Ahnung haben. Und wenn wir, indem wir nur in die nächste Souterrain-Zuflucht gehen und mit diesen Leuten und ihrer Bedürftigkeit uns unterhalten, dann machen wir auch oft Reisen, die weiter sind als jede Reise, die wir mit dem Flugzeug machen können. mir geht für dieses Jahr im Kopf herum natürlich immer ein Thema für die Frankfurter Buchmesse. Und ich glaube, Christoph Ranzmeier hat es mir gerade geliefert, das ist Menschlichkeit. Die Menschlichkeit durch das Zuhören, durch das Rausgehen und durch das Geschichtenempfangen. Und ich glaube, das ist ein großes Problem. Früher habe ich oft gedacht, Aufklärung ist alles, aber inzwischen glaube ich, Menschlichkeit ist viel wichtiger. Und das spiegelt sich doch auch in Ihren Büchern, oder? Ja, ich könnte, wenn mich das, was Menschen zustößt, wofür sie sich begeistern, wofür sie sich fürchten, oder worüber sie auch Hass empfinden, ich könnte ohne das Erlebnis dieser Gefühle, dieser Stürme, die in unseren Herzen oder in unseren Köpfen losgehen, könnte ich nicht schreiben. Ich muss vor allem zunächst mal, um etwas wie Es war einmal sagen zu können, muss ich sehr lange still sein und sehr lange zuhören. Und mich sehr lange bewegen lassen von dem, was ich höre. Und mein Freund, leider im Dezember verstorben, Hans-Marcus Enzensberger, hat eine wunderbare Formel gesagt für das, was Literatur im weitesten Sinn braucht. Er hat gesagt, und die ist so revolutionär und so einfach wie die einsteinische Formel Masse mal Geschwindigkeit. Er hat gesagt, für das Erzählen, die Literatur bedarf nur zweier Dinge, einer Stimme und eines Ohrs. Also dort, wo nur ein Ohr und eine Stimme zu hören ist, haben wir schon das, was das alles Erzählen als Grundvoraussetzung braucht. Sie haben jetzt gerade Hans-Marcus Enzensberger erwähnt und dann muss ich mal was ganz Privates fragen, weil ich habe früher die Ausgaben von Transatlantik mir immer gekauft und darunter stand das Journal des Luxus und der Moden. Was verbarg sich da dahinter? Sie waren Teil dieser Transatlantik-Idee. Warum Luxus? Ist das Bewegung Luxus? Das war natürlich ein Zitat aus dem 18. und 19. Jahrhundert, aber es war natürlich auch ein ironischer Hinweis darauf, dass vieles, was wir in unserem Katalog wichtiger Themen haben, natürlich längst nicht die Welt abdeckt, sondern dass vieles, was uns luxuriös erscheint, überflüssig erscheint, wozu sollen wir uns jetzt für die Bestattungsrituale des ägyptischen Pharaos Nofru, des Vaters von Cheops, warum sollen wir uns dafür erinnern? Das ist auch diese Art von Luxus, die sagt, wir haben keine Pyramide der Themen, die sagt, das ist wichtig, das ist wichtig, das ist wichtig, sondern für uns ist alles, was den Menschen betrifft, wichtig. Und das kann man auch in einem Journal abhandeln, das Luxus unter Moden heißt. Das heißt, der Luxus ist auszuwählen? Richtig, genau, ja. Und warum hat Transatlantik nicht funktioniert? War die Familie zu klein? Oder lag das bei den Herausgebern, Gaston Sabatore, Hensensberger? Nein, ich glaube, es war so, das war eine sehr schön gestaltete Monatszeitschrift, die ein Versuch war, im deutschsprachigen Raum etwas wie einen New Yorker zu etablieren. Und dafür fehlten einfach die Leser auf lange Sicht. Denn eine Reportage, die im New Yorker 40 Seiten lang ist, die war einfach nicht vorstellbar. Ja, schon vorstellbar und auch machbar, aber nicht verkaufbar, wie in der Zeitschrift Transatlantik. Ja, schade, aber ich wollte das immer mal, das war jetzt eine private Frage, eher nicht. Aber mich interessiert natürlich immer, wie schaffen wir es jetzt, die Familie wachsen zu lassen? Ja, also wir müssen ja immer noch mehr Freunde finden, das heißt, wir müssen rausgehen. Und dazu ist natürlich die Rolle des Übersetzers die ganz, ganz wichtige. Wie kann ich als Autor eigentlich rausfinden, passt der Übersetzer zu mir? Aber das ist die Rolle von Marco. Ist das deine Rolle? Ja. Ja, ist das nicht um che venga fatto nella maniera assolutamente migliore e trovare il giusto traduttore, noi conosciamo diversi traduttori molto bravi e soprattutto facciamo una sorta di controllo tagliando durante le prime fasi di traduzione, quindi dopo le prime 10-20 pagine il traduttore che lavora con l'ormeitore fa una telefonata o ci si vede o a distanza e si discutono quelli che citavo prima, i criteri, quindi si discute come pensi, ci si confronta di affrontare quest'autore, con quei criteri e è qualcosa che aiuta a trovare, abbiamo visto nel tempo, il buono traduttore, quindi aiutando le persone a interrogarsi sul testo, a fare qualcosa pensando, che sembra molto banale ma poi negli automatismi un'attività molto pratica si rischia di farla senza avere un surplus di riflessione, mentre invece cerchiamo di costringere le persone a riflettere insieme a noi. Grazie a tutti. Grazie a Christoph Ranzmeier. Der Anfang sind die Geschichten, ma anche i familiari, non i familiari, i familiari, i familiari, i familiari. Insofern bedanke ich Marco per dir, per la possibilità di parlare, che conosceremo con la transatlantica, per la cosa che si è diventata, per la cosa che mi piacciono. E io bedankemi per la famiglia qui in questo momento. Grazie. Applausi.